ora la pista ciclabile comincia da qua e vedete che nonostante ci sia moltissimo spazio questi hanno deciso di mettere la pista ciclabile sull'unico scassatissimo marciapiede in questo luminoso mattino ferragostano abbiamo pensato di fare una bella gittarella sul canale della burana dove c'è una bella pista ciclabile che ci porta a una delle delizie degli estensi il gatto ride allora la pista parte da qua non la fa non ce la fa a destra questa qua è la chiesa di san valentino è un oratorio costruito ricostruito molto di recente è possibile vedere tra i campi già il parco e la facciata della delizia degli estensi a presto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.